buongiorno ragazzi e benvenuti alla 32esima puntata del podcast volevo ringraziare la regia, eccoli qua, per questo nuovo sfondo con ambarabacci cicocò, tre civette nel buco dell'albero nel buco del comò visto che ci avete trovati potete iscrivervi al nostro canale lasciare un like sotto i nostri video e commentare ho tante notizie, tante, qualche notizia, quindi banda alle ciance, regia, sigla buongiorno signore e signori, benvenuti alla rubrica dal titolo non succede mai un c***o buongiorno ragazzi ecco e dopo esservi iscritti al nostro canale vi ricordo sempre che c'è il nostro vestiario con tanto di logo della rana adesso magari fa ancora un po' freschetto ma il cappellino di lana no in roma ci sono tante belle magliette e qui c'ho pepe the frog dietro la mia schiena che che mi guarda che mi guarda alle spalle con le notizie e pepe the frog ragazzi non è la rana di bill gates mannaggia voi ok pepe the frog è il meme utilizzato dagli anon per prendere per i i democratici smettetela di farvi i film sulla rana di bill gates quella di bill gates è un'altra comunque vi voglio bene lo stesso ma vai a cagare andiamo iniziamo subito con la notizia in francia un po' di tempo fa comunque anche se per noi magari sono obsolete queste notizie che magari sono successe 5 6 7 giorni fa per i normis queste notizie sono nuove anche perché probabilmente nei tg italiani non si vedono prenditi per cool i francesi cominciano a chiedere l'uscita da lui e dalla nato le due peggiori e sanguinarie organizzazioni criminali secondo secondo e solo a washington ok andiamo avanti perché ho trovato anche altri video dove qua siamo si è tenuta all'annuale pagliacciata questi cozzini i commenti che trovo di chi scrive il post si è tenuta all'annuale pagliacciata della cena alla casa bianca con i corrotti schiavi giornalisti del mainstream media l'unico momento decente è stato l'intervento del comico di turno che ha detto è bello essere di nuovo a washington dc la volta scorsa che ero qui ho dimenticato la mia cocaina alla casa bianca fortunatamente biden ne ha fatto buon uso durante il discorso sullo stato dell'unione ovviamente biden non l'ha chiamata cocaina ma ferrovia ad alta velocità e il ride e applaude come un rincoglionito a bocca aperta stacchiamo un po' questa frase dal contesto prima per eventuali censure dallo sfondo no però magari se chiamiamo qualche qualche se chiamiamo brandon rincoglionito capace che cacatube ci censuri miserabile che non sei altro abbassiamo questo video trovo una fotografia sembra interessante vediamo mi chiedo seriamente questa qua è un'immagine dove ci sono parecchi sinistri con tanto di bandiera lgbtq++ lgqhdtv con falce e martello quindi mi chiedo seriamente perché i sinistrati mentali sono sempre così brutti quindi vuol dire che aveva ragione ragione Cesare Lombroso è una questione di fisiognomica del criminale e dello stupido lazzo lazzo calcio del mulo faccio sciompo tomana fan andiamo avanti apriamo un altro video e ci abbiamo la vita in ucraina mentre gli occidentali lottano per pagare le bollette la vita notturna ucraina prospera vaste somme di denaro dei contribuenti vengono convogliati in ucraina mentre gli stessi contribuenti lottano con una crisi del costo della vita un'inflazione alle stelle e bollette energetiche alle stelle ma almeno la vita notturna in ucraina è fiorente e tanto di documentazione video ce l'abbiamo qui presente diranno che sono delle fake news sei una fake news quella non è l'ucraina è la russia vabbè poco importa tanto stanno bene in russia tesla andiamo sui motori elettrici so che qualcuno di voi li ama so che tanti di voi li odiano io personalmente non me ne frega un cazzo perché tanto per me piuttosto meno ad a piedi piuttosto che prendere una macchina elettrica via altre 10.000 tesla hertz venderà oltre 10.000 tesla i costi di gestione delle auto elettriche la stanno seriamente mettendo in difficoltà quindi via da i possibili affitti macchine in rent sieri astraculo astraculeca ammette provocano trombosi in inghilterra 51 denunce richieste di risarcimento da 100 milioni dopo aver negato per anni possibili correlazioni tra i suoi sieri elettrombone e le trombosi con sindrome da trombocitopenia TTS l'azienda anglo-svedese ha fatto marcia indietro anche i produttori iniziano ad ammettere che con nonchialanze e i gravi e drammatici danni dei cosi killer chiamiamoli cosi killer vabbè andiamo avanti perché trovo un video che c'è l'euro sempre la nostra eurodeputata che si fa sempre valere l'eurodeputata tedesca Andersson alla domanda di cosa parlano i vostri colleghi e qual è il loro umore risponde che al momento sono spaventati perché molti di loro capiscono che stanno facendo la cosa sbagliata servono gli interessi dei misantropi globalisti e aggiungo io pezzi di corrotti e basta ma censuriamo tutte queste parole grazie regia prima che qua andiamo avanti troviamo una bellissima immagine di Ron DeSantis sembra tornato in carreggiata vediamo vediamo vedremo se Ron DeSantis è tornato all'ovile o è tutta una tattica la sua comunque Ron DeSantis firma una legislazione per vietare la carne coltivata in laboratorio in Florida afferma che l'elite lo stanno spingendo comunque c'è anche Bezos che voleva acquistare 60 milioni di roba per fabbricare carne in Florida ma la prende in va bene ma andiamo avanti quale altra notizia abbiamo oh qua abbiamo si avvicinano le elezioni americane guarda caso allarme pandemico la Casa Bianca afferma che sta monitorando molto attentamente l'influenza aviaria H5N1 ciò avviene dopo che i centri per il controllo e le prevenzioni delle malattie hanno dichiarato che la cazzo ha detto ha un potenziale pandemico a causa della prima trasmissione documentata dal virus da un mammifero e un essere umano che palle che palle sempre le solite strumenti stiamo aspettando poi qua il signor col pangolino non faccio nomi col pangolino col pipistrello col topo non sanno più cosa inventarsi New England Journal of Medicine ha pubblicato oggi un rapporto su un bracciante agricolo del Texas che ha trasmesso la malattia da mucche infette a marzo confermando che il virus può dispondersi dalle mucche all'uomo questo qua magari questo bracciante magari è vestito con la giacca e la cravatta e si va a sedere in mezzo ai dem americani l'amministrazione Biden inizierà presto a chiedere il voto di massa per corrispondenza siamo sempre alle solite Maledetti andiamo avanti perché qui ho un altro video dei Ron Jones il senatore Ron Jones nomina Bill Gates, l'OMS e Klaus Schwab e il World Economic Forum The failure and corruption of the global elite and their institutions including the government can you talk about the global elite who they are and how they factored in into the pandemic response here in America it's the individuals that are running the World Health Organization that are funding it and then highly influential like the Bill and Melinda Gates Foundation it's the Klaus Schwabs of the world of the World Economic Forum again I don't know exactly how they pull the strings but what I will say is they exert far too much influence over our lives over our governments ma dai non lo sapevamo dai non lo sapevamo che questi mo cadono dal pero esercitano molta influenza sui governi no 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 questa è una cosa cospirazionista non lo può dire il senatore no andiamo avanti va piano piano vengono fuori le cose trovo questa immagine di 49 senatori repubblicani hanno scritto a Biden hanno scritto a Biden chiedendogli di ritirare il sostegno agli Stati Uniti all'accordo pandemico dell'OMS e alle principali modifiche al regolamento sanitario internazionale sappiamo che già qui se la sono presa comunque Tedros sicuramente poi dirà ma no ma io non volevo ma non era questa la nostra intenzione fanno sempre così vi fate schifo tutti pagliacci per i saputelli la verità articolo il New York Times la Repubblica scoprono gli eventi avversi da coso anticoso e non con noncialanza raccontano le storie degli invisibili rovinati dal farmaco ma che fate schifo siete delle per i saputelli i pericoli non ce n'erano chi dubitava del siero andava umiliato pubblicamente in televisione nel mainstream media nella RAI o magari nelle reti di trasmissione di Mediaset no? vi ricordate Sileri quando se la rideva e tanta altra gente che prendevano in giro no? o la stessa Mirta Merlino oh io con la gente non vaccinata non ci voglio stare e poi si inginocchiava per i Black Lives Matter lei mi fa più schifo di tutti una vergogna totale tutta italiana ma ultimamente dal mainstream media italiano anzi da sempre vengono fuori solo umiliazioni va bene comunque piccola notizia i BRICS creeranno la propria banca centrale così con noncialanza va bene va benissimo vediamo il dollaro che fine farà oh ecco qua che abbiamo la nostra Big Mike Obama Mike Mike tra i democratici statunitensi circolano voci secondo cui la convention dell'agosto 2024 Biden farà un grande gesto e ritirerà la sua candidatura dalle elezioni presidenziali secondo Dear Spiegel Spiegel bu proporà invece di nominare l'ex first lady Michael Michelle Obama questa possibilità viene discussa così seriamente a Washington che il partito democratico ha incluso Michelle Obama nei suoi sondaggi d'opinioni nota il giornale già a settembre i media americani avevano scritto che molti sostenitori del partito democratico statunitensi avrebbero voluto vedere Michelle Obama come candidato vabbè continuano i rumors su questa storia di Michelle Obama candidata che sostituirà fino alle elezioni se le permetteranno si inventeranno qualche boiata sto cazzo la sua ascesa al posto di del lucidissimo Biden Biden mi è piaciuta lucidissimo così gli esperti di hanno mandato Camilla a morire qualche giorno fa la verità in prima pagina scrive poi snobbando i dati abbiamo l'altra pagina sempre della verità snobbando i dati sulle trombosi il CTS ha mandato a morire la canepa ma ricordiamo che non è morta solo lei pochi mesi dopo è morto anche suo padre adesso io dico questi fanno schifo perché hanno rovinato una famiglia qua ma chissà quante altre non documentate ce ne sono ok che magari gente dice mi sono morti mamma papà figlia è così e dicono vabbè le classificano come cause naturali e vabbè lasciamo perdere siete delle merda abbiamo qui un video di Trump che il 45esimo presidente Donald Trump si dice disposto a finire in prigione nella sua lotta per la costituzione vedremo poi tutte le accuse a Trump come andranno a finire vediamo abbassiamo il video di Trump Donaldone Trump andiamo su qui via abbiamo la notizia che è stato tentato l'omicidio del principe ereditario dell'Arabia Saudita Moabed Salman il quotidiano turco Yeni Safak scrive che ci sono molti morti tra le guardie reali il principe stesso però è vivo quindi hanno attentato molto probabilmente sono riuscite le guardie con magari magari con una perdita di uomini per difenderlo si sono sono riusciti a salvarlo quindi c'era l'intenzione perché molto probabilmente non sta più seguendo l'agenda globalista e magari sul petrolio non usando più il dollaro come moneta di scambio il petrol dollaro e magari cercando di associarsi ai BRICS sta facendo un torto a qualcuno colleghiamo un po' di punti così giusto per andiamo avanti tiktok cosa succede con tiktok vietare tiktok per israele lo hanno ammesso blinken afferma che le pubbliche relazioni israeliane stanno fallendo perché i social media consentono alle persone uno sguardo diretto su ciò che sta accadendo e ciò ha una risonanza emotiva Romney poi dice di sì ecco perché ci siamo mossi per vietare tiktok queste sono le democrazie occidentali quindi come adesso la gente si vuole informare le persone che si vogliono informare non guardano più il mainstream media si documentano giustamente su come si dice su persone che fanno dei video che si trovano sul posto quindi documentano realmente ciò che sta accadendo e ti raccontano la verità quindi non è che te la raccontano te la fanno vedere con i tuoi occhi e quindi queste armi che loro hanno come i social media gli si stanno ritorcendo contro ragazzi quinta dimensione non statevene nella quarta a lamentarvi che youtube è brutto e cattivo noi lo usiamo youtube lo usiamo per diffondere dei messaggi che vanno contro il sistema quindi andiamo in quinta dimensione ragazzi non fermiamoci a pensare che quello è cattivo l'altro è cattivo l'altra piattaforma è quello di censura usiamo le loro piattaforme per mettere in evidenza il fatto che loro stessi facciano schifo andiamo in quinta dimensione divertiamoci un po' quando c'è ragione c'è ragione quindi qua siccome purtroppo i social media fungono per quanto cerchino di censurare anche su tiktok i video scomodi comunque qualcosa passa e la gente li vede poi magari li tolgono da tiktok c'è qualcuno che se li scarica li mette su telegram e via e girano per tutto il mondo ragazzi ormai gli si sta ritorcendo tutto contro ma è una cosa voluta? è una cosa non è voluta? ragioniamoci su ognuno si faccia la sua idea tutte possono essere valide certo certo adesso passiamo al lato del web trovo un articolo tsp di Antonio Oliviero spente allora togliamo queste immagini qua di presentazione che penso che siano finite togliamo il principe ok articolo spente le antenne 5G i giganti delle telecomunicazioni cremano rischio per la salute cosa sta succedendo? a Santa Margherita Ligure hanno spento il 5G qualcosa si sta muovendo e forse c'è una certa consapevolezza finalmente ora come è noto il 29 aprile sono entrati in vigore i nuovi limiti di emissione elettromagnetica per le reti di telefonia cellulare il 5G il 5G fa male diciamo che sono delle onde corte già solo il fatto che disboschino le città nel senso che quei 4 alberi che magari in città ci sono bloccano il segnale perché essendo onde corte non riescono neanche a passare i rami e le foglie degli alberi quindi disboscano le città poi rompono il cazzo per la CO2 gli alberi ricordiamo che attraverso la fotosintesi clorofiliana le foglie prendono la dinidride carbonica e la trasformano in ossigeno ma voi globalisti di m***a che spingete il green siete dei criminali e basta comunque andiamo avanti Alex Jones bomba da incubo Bill Gates confessa di aver testato illegalmente i nanobot sull'umanità tramite iniezioni di MRNNA ah signore mio dio Alex Jones fa molto rumore no? molti pensano che sia l'estremista della cospirazione documenta mette i video fa ricerca anche lui e dice quello che trova e quello che pensa e quello che vuole far vedere ok? andiamo avanti succede un casino qua perché abbiamo The Politik Brief l'esperto del processo parla alla CNN di un problema enorme qual è questo problema enorme? non sono sicuro che potrebbe portare alla soluzione di Trump anche con la giuria Theam il consulente della giuria Robert Heysk ha dichiarato lunedì alla CNN che la mancanza di prove dell'accusa nel processo quindi non hanno neanche le prove però lo stanno processando dovete calmarvi l'ex presidente Donald Trump finora è un problema importante che potrebbe portare a un verdetto di non colpevolezza nonostante la probabilità che la giuria sia in gran parte democratica a causa della sede di Manhattan fate schifo va bene è un problema il fatto che non ci siano prove per poter accusare Donaldone è un problema ma vi rendete conto che state diventando cioè il film Idiocracy ci siamo è questo siamo in questo ci svegliamo e ci ritroviamo in un mondo di idioti va bene dai politica abbiamo il nostro spingitori di sieri della regione Liguria Giovanni Totti governatore gli arresti domiciliari corruzione queste persone qua che sono sporche fanno le porcherie no non vi dimenticate che in tempo fantapandemico no facevano la morale agli altri ci dicevano cosa dovevamo fare perché se non lo facevi non ti faceva salire sull'autobus criminale e poi chi non si faceva la cosa magica il liquido magico veniva vessato e marginato ed erano brutte persone cattivi e soprattutto eravamo dei killer va bene ma andiamo avanti trovo su X l'ultimo Maddalena Loi qui c'è vediamo se riesco a far vedere vediamo gli stati responsabili per i danni e lo scaricabarile di Ursula sulle fiale eccola qua con la foto della della basta maledetto verme della Wunderlion è partito lo scaricabarile sui vaccini anti-covid ora che si muovono i tribunali tutti si dissociano vedete come fanno sono delle merde qua ci vorrà soltanto la giustizia divina o quella del popolo Ursula Wunderlion incalza sui contratti con Pfizer rovescia la responsabilità sui governi nazionali governi nazionali la scaricavano poi su sull'Europa quindi stanno giocando a mamma e papà vai da mamma no vai da papà vedi cosa ti dice mamma e vedi cosa ti dice papà tu sei un uccellino ritardato speranza in tribunale ha detto il contrario hanno fatto tutto la UE vedete io non ho firmato niente ma come quella dei i cosi non era stata una storia di grande successo senza alcuna dubbia adesso si dissociano tutti e mandiamo il video di questa schifo vabbè basta no niente già solo vederla sentirla è pure troppo va bene comunque ragazzi con questa notizia noi oggi abbiamo chiuso ringrazio sempre la regia per ambrabaci cccocco tre civette sul comò bellissimo sfondo vi ricordo sempre che siamo partner e il natura per quanto riguarda la vendita dei loro prodotti in Italia quindi troverete sempre sotto ricordatevi questi prodotti del benessere abbiamo il link per ottenere il 15% di sconto sull'acquisto del merchandising ve ne ho già parlato quindi non mi resta che ricordarvi che i nostri video saranno sempre caricati in forma integrale qualora ci sia censura da parte di cacca tube su rumble abbiamo il nostro account anche di tiktok dove gli shorts di youtube verranno caricati anche lì canale telegram relativa chat entrate per chiacchierere tanto e il canale di x dove metteremo sempre tutti i nuovi aggiornamenti la 32esima puntata ragazzi finisce qui ma perché dite questo come sempre vi bacio vi abbraccio e vi auguro una buona giornata ciao a tutti bye have a beautiful time ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti